Voi volete fare il vostro programma, noi vogliamo fare il nostro. E facciamoli tutte e due. E facciamoli tutte e due. Mi sembra una proposta ragionevole, per quanto l'Europa non appare incline a dare le necessarie coperture... finanziarie. Io me ne fotto! Stampiamo 200 miliardi! Se all'Europa non va bene, li mandiamo a cagare! Almeno producono qualcosa di organico! Teodoro? E' una telecamera di servizio, ad uso interno. Certamente troveremo una soluzione ponderata. Dopo l'uscita di questo video, le borse tornano a tremare e lo spread sale di 120 punti. Io me ne fotto! Stampiamo 200 miliardi! Se all'Europa non va bene, li mandiamo a cagare! Almeno producono qualcosa di organico! Ma resta un interrogativo. Chi l'ha diffuso e perché? Sono stati loro. Chi accumula titoli è una speculazione contro l'Italia come nel 92. E nello Stato c'è una talpa. Bisogna scoprire chi è. Mi piace quando ti appassioni. Non ricorda quando stavamo insieme. Avete un nome? Sì, governo delle pulizie. O anche grandi pulizie. O repulisti, che non è male. Intendo il nome del premier. Chi è? Ah, io. Io. Ti l'ho detto. Ma io lo metto in razza. Ma due premier non si può? Dicta tedesco. No. Costituzione italiana. E vabbè, cerchiamo un premier neutrale. Flat. Ehi.